carissimi amici e amiche eccoci alla seconda puntata del circo di catechesi dedicato alla figura di maria di magdala negli scritti di maria valtorta non farei troppi preamboli la volta scorsa abbiamo fatto conoscenza evidentemente conoscenza per chi non non l'avesse già avuta con questa splendida figura e l'abbiamo vista incontrare gesù sulla barca del lago di gharilea dopodiché abbiamo conosciuto anche la sorella marta e il fratello lanzaro abbiamo già spiegato la volta scorsa che negli scritti di maria valtorta la tradizione più antica che vede appunto maria di magdala sorella di lazaro e di marta e la identifica con la stessa persona che viene chiamata anche maria di betania o la peccatrice di luca 7 quella che piange a piedi di gesù in casa di simone il fariseo questa posizione è perfettamente sposata dagli scritti di maria valtorta e quindi proseguiamo il nostro viaggio oggi comincio subito la lettura oggi e conosceremo un po almeno nel primo brano breve che leggeremo un piccolo squarcio della sua vita licenziosa che è un paragrafetto che è piccolino si chiama fa vita licenziosa a magdala suo feudo e a tiberiade pagana magdala se uno va in terra santa tuttora oggi è proprio un borgo che a quei tempi era abbastanza rinomato sotto tiberiade tiberiade era questo è noto era un po una località esotica di vacanza per ricchi romani perché non è che si si poteva spostare per andare era appunto una città costruita dall'imperatore tiberio da cui tiberiade appunto per alcuni insomma romani ricchi patrizi ovviamente desiderosi di fare qualche vacanza alternativa insomma no le grosse non lo so sarebbe stato qualcosa di simile a quella che per noi oggi è la costa la costa smeralda però sicuramente era una località molto chic diciamo così della roma bene altrimenti ma era di magda evidentemente ma ci sarebbe stata no quindi la c'era sto quartiere generale ecco perché di magdala diciamo come di betania abitavano a betania perché di magdala per questo leggo il paragrafo del suo censo e della sua condotta parla nicodemo in un colloquio con gesù inizia il virgolettato lazaro è potente in ricchezza buona parte della città è sua e così molte terre di palestina il padre al suo censo ed a quello di ucheria della tua tribù e famiglia aveva unito quanto era ricompensa dei romani al servitore fedele e dai figli ha lasciato ben grande eredità e quel che più conta una velata ma potente amicizia con roma senza quella che avrebbe salvato dall'improperio tutta la casa dopo l'infamante condotta di maria il suo divorzio solo avuto perché era lei la sua vita di licenza in quella città che è suo feudo e in tiberiade che è l'elegante lupanare dove roma e atene hanno fatto letto di prostituzione per tanti del popolo eletto veramente se teofilo siro fosse stato un proselite più convinto non avrebbe dato ai figli quella educazione ellenizzante che uccide tanta virtù e semina tanta volutà e che bevuta ed espulsa senza conseguenze da lazaro e specie da marta ha contagiato e proliferato nella sfrenata maria ed ha fatto di lei il fango della famiglia della palestina no senza la potente ombra del favore di roma più che ai lebrosi sarebbe stato mandato al loro anatema questo spaccato è importante non soltanto per essere un pochino edotti delle licenziosità di maria di magdala peraltro vedete l'infamante condotta di maria il suo divorzio quindi nonostante fosse molto giovane secondo la testimonianza sempre degli scritti di maria valtorta aveva già fatto in tempo a sposarsi e divorziare tra le altre cose solo avuto perché era lei quindi oltre a questo piccolo dettaglio e a conoscere che a Tiberiade c'erano soltanto i romani ma anche i greci quindi il fiorfiore del paganesimo e che Teofilo che era il padre di Lazzaro di Maria e di Marta era un proselito che cos'è un proselito? un proselito era una persona che veniva appunto dal paganesimo questo era originario della Siria e che aveva chiesto di entrare nell'ebraismo questi erano i proseliti ne parla anche San Paolo nelle sue lettere i proseliti proseliti appunto perché sapete che per essere ebreo quindi appartenere al popolo eletto dovevi essere nato ebreo quindi si appartenere al popolo eletto per sangue ordinariamente da un certo punto in poi però si cominciò a dire ma facciamo che se qualcuno si converte all'unico Dio che è Yahweh e lo facciamo entrare certamente non sarà mai un ebreo puro sangue sarà un proselito lo circoncidiamo e da quel momento in poi sarà aggregato al popolo eletto ora il padre di Lazzaro apparteneva a questa cerchia ovviamente attenzione i figli del proselito erano ebrei ebrei nel senso di religione ebraica ok oh ma non è solo neanche soltanto questo oh la cosa importante è che ci viene detto qualcosa su Lazzaro perché non bisogna dimenticare che Lazzaro era il fratello di Magdala ma Lazzaro era il miglior amico di Gesù l'amicizia tra Gesù e Lazzaro che è descritta in maniera meravigliosa negli scritti di Maria Valtorta è uno dei tanti motivi per cui vale la pena di leggerli perché io non sono come dire non sono forse non sarò oggettivo forse sarò sarò di parte no qualcuno ogni tanto accusava Maria Valtorta di aver scritto un bel romanzo ah ma se fosse un bel romanzo io non credo che lo sia ma più bello di così non se lo potevano inventare insomma perché veramente è qualche cosa a mio avviso cioè gusti soggettivi gusti personali per carità di qualche cosa di veramente straordinario di qualche cosa di veramente meraviglioso no quindi quindi chi era Lazzaro questo ci aiuta un attimo a smontare un pochino di idee un po' forse pittoresche un po' particolari che potremmo avere su Gesù già durante l'omenia di questa sera ne ho smontate un pochino no perché oggi è la festa nel santo nome di Maria che ricorda come la battaglia di Viena del 12 settembre del 1683 è stata vinta grazie all'intervento della Madonna quindi se una battaglia è vinta per l'intervento della Madonna dobbiamo farci un paio di domande no potrebbe la Madonna andare a far vincere una battaglia se quella battaglia non era da da combattere quindi non tutte le guerre sono peccato sono da non combattere alcune bisogna combattere o no secondo che pensi della Madonna che scende in campo per portare l'esercito cristiano alla vittoria forse magari no qualche immaginetta un po' naif d'accordo vediamo la Madonnina sempre con le mani giunte che sta con gli occhi al cielo perché adesso non voglio capire il senso che lo sto dicendo no chi era il miglior amico di Gesù non era un povero Gesù era poverissimo su questo non ci sono dubbi povero non fino al punto però di essere proprio perdonatemi il termine uno straccione perché abbiamo dei particolari dati dei Vangeli degli studi che ce lo affermano per esempio il modo di vestire sia di Gesù che della Madonna certamente non era l'equivalente di chi oggi andrebbe in giro vestito griffato però era comunque decoroso e dignitoso d'accordo però l'amico grande di Gesù era potente in ricchezza Lazzaro aveva un sacco di soldi tanti possedeva mezza Palestina buona parte della città è sua così molte terre di Palestina cioè a quei tempi essere dei grandi proprietari terrieri vedremo poi se sono gli altri spaccati a casa di Lazzaro c'era una coltre un autotreno di servitù tanto è vero che c'era il capo dei servi che si chiamava in anticipo si chiamava Massimino perché c'erano talmente tanti che bisognava coordinarli cioè giardini la casa di Lazzaro era una reggia era per quanto era bella potente in ricchezza e amico di Roma Lazzaro era amico di Roma grazie al padre e qui Nicodemo dice se non fossero stati amici di Roma quindi nel senso che ci avevano paura a dargli troppo addosso perché dopo temevano ritorsioni da parte dei romani li avrebbero completamente scomunicati sarebbero stati completamente ostracizzati a causa del comportamento scandaloso della loro familiare stretta ok quindi questo è quello che è il senso del discorso no? oh poi bellissimo un altro episodio e questo è molto importante di lei che ascolta Gesù di nascosto ora lei ascoltava Gesù di nascosto ma Gesù sapeva che c'era lei e quindi tutto quello che adesso ascolteremo dobbiamo pensare che Gesù parlava sapendo che c'era lei un povero prete queste cose le conosce bene perché voi sapete che molte volte per risparmiare a qualcuno come dire una correzione diretta un rimprovero diretto magari se capita in qualche circostanza che ci si accorge che qualcuno ti sta ascoltando lo vedi collegato in diretta o lo vedi presente realmente quando stai parlando e sai che magari quella persona ha quel certo problema e lo spirito santo ti aiuta un po' fai un cenno a quella cosa sperando che lo spirito santo tocchi quel cuore e faccia capire che magari quella cosa riguarda il diretto interessato quindi su questo come dire noi poveri preti un pochino lo stile di Gesù lo comprendiamo no quindi andiamo a sentire questo nuovo paragrafo che si chiama ascolta Gesù di nascosto sottotitolo quindi ambientazione è inverno quando Gesù torna a Betania dove Simone Zelote può disporre della propria casa anche se è stata acquistata da Lazzaro per uno scopo di bene quindi attenzione che anche Simone Lo Zelote credo di averlo detto già una volta scorsa era amico di Lazzaro tra coloro che accolgono il maestro è Massimino vedete intendente di Lazzaro come ho accennato prima intendente significa in questo caso proprio il preposto alla servitù quindi comprendiamo questa da questo ecco lo stile ribadisco insomma della il tenore di vita anche il censo la casta sociale chiamatela come volete di Lazzaro andiamo a leggere sopraggiunge Massimino che precede Lazzaro di qualche metro maestro mi ha detto Simone che che tu vai nella sua casa dolore per Lazzaro ma si comprende ne parleremo poi oh amico mio Gesù si affretta verso Lazzaro che è come imbarazzato e lo bacia sulla cota sono giunti intanto in un viottolo che conduce ad una casetta sita fra altri frutteti e quello di Lazzaro vuoi proprio andare da Simone allora si amico mio ho con me tutti i discepoli e preferisco così quindi gli da la brutta notizia che non alloggia a casa di Lazzaro ma va a casa di Simone Lazzaro manda giù Mare la decisione ma non ribatte solo si volge alla piccola folla che li segue e dice andate il maestro ha bisogno di riposo vedo qui quanto è potente Lazzaro tutti si inchinano le sue parole e si ritirano mentre Gesù li saluta col suo dolce pace a voi vi farò dire quando predicherò e dite no a ribadire quanto abbiamo detto prima vedo qui quanto è potente Lazzaro apre bocca e tutti spariscono e non erano soltanto i servitori si volge alla piccola folla che li segue Lazzaro ha parlato Roma locuta causa decisa no? via tutti maestro dice Lazzaro ora che sono soli avanti i discepoli che parlano con Massimino qualche metro indietro maestro Marta è tutta in lacrime per questa non è venuta ma poi verrà io non piango che nel cuore ma diciamo è giusto se avessimo pensato che ella veniva ma non viene mai per le feste già quando mai viene io dico la spinta qua il demonio proprio oggi si capisce che era venuta Maria di Magdala e questi si vergognano e si sono disturbati che questa torna a casa è il giorno in cui andava Gesù e Gesù ribatte il demonio e perché non il suo angelo per comando di Dio ma mi devi credere anche se era non ci fosse stata io sarei andato in casa di Simone capite no? Lazzaro attribuisce attribuiva il fatto che Gesù andava in casa di Simone alla presenza di Maria di Magdala siccome sta Maria di Magdala questo non si ferma a casa mia con questa zozzona e se ne va a casa di Simone Gesù lo rincuora dice punto primo sicuro che è il demonio? vedete no? è il discernimento il nostro umano è sempre molto limitato e poi questa cosa perché mio signore riprende Lazzaro non ricevesti pace dalla mia casa? sentite che risponde Gesù tanta pace che dopo Nazareth è il luogo a me più caro guardate che è una sorta di Lazzaro tanta pace che dopo Nazareth è il luogo a me più caro ma rispondimi perché mi hai detto vieni via dall'acqua speciosa fare un pic stop adesso per spiegare che cos'è questa cosa qua per l'insidia che si accosta non è così? e allora io mi metto nelle terre di Lazzaro ma non metto Lazzaro nella condizione di ricevere insulto nella sua casa credi che ti rispetterebbero? per calpestare mi passerebbero anche sopra l'arca santa lasciami fare per ora almeno poi verrò del resto nulla mi vieta di prendere i pasti con te e nulla vieta che tu venga da me ma fai che si dica è in casa di un suo discepolo qui bisogna per forza fermarsi perché vedete è inutile dire ogni cosa che Gesù dice fa pesa una tonnellata l'acqua speciosa che cos'era per chi non conosce gli scritti di Maria Valtorta era una località dove Gesù fece delle spettacolari lezioni sui dieci comandamenti a un certo punto se ne sono dovuti andare perché come al solito i soliti farisei e and company malignavano su alcune situazioni e se ne è dovuto andare sul consiglio di Lazzaro che aveva scusate intrasentito i pericoli e aveva avvertito Gesù ora Gesù come dire in un certo modo alza il tasso di prudenza e non vuole che Lazzaro riceva insulto nella casa sua a causa della presenza di Gesù perché già Gesù cominciava ad essere un personaggio scomodo se invece se ne va in casa di un suo discepolo la casa è quella di Simone lo Zerote per ora è meglio fare così quindi da questo comprendiamo il modo di muoversi di Gesù dentro le situazioni concrete che andavano determinandosi soprattutto a causa dei suoi nemici operando sempre con estrema prudenza la prudenza è una virtù molto importante ai miei sindicati che ci impedisce di fare stupidaggini o di metterci in situazioni tali che possano recare inutili pregiudizi suscitare inutili chiacchiere o cose di questo genere è molto importante veniva chiamata nella tradizione cattolica e anche pagana perché anche Aristotele la chiamava così lauriga virtutum quindi lauriga di tutte quante le virtù Gesù ovviamente aveva una prudenza veramente spettacolare ovviamente però dice e io non lo sono risponde batte Lazio dice in casa di un suo discepolo ma io non lo sono e sentite che dice tu sei l'amico più che discepolo per il cuore è una cosa diversa per la malizia lasciami fare Lazio questa casa è tua ma non era la tua casa aveva comprata la casa di Simone la bella e ricca casa del figlio di Teofilo e per i vedanti ciò ha molto valore tu dici così ma è perché è per lei ecco io stavo per persuadermi a perdonare ma se lei allontana a te viva Dio io la odierò dice Lazaro e così mi perderai del tutto risponde Gesù deponi questo pensiero subito o subito mi perdi ecco Marta pace a te mia dolce albergatrice oh signore Marta in ginocchio piange si è calata il velo che è posato sull'acconciatura del capo fatta a diadema per non mostrare molto il suo pianto agli estranei ma Gesù non pensa di celarlo perché questo pianto in verità che tu sciubi queste lacrime ci sono tanti motivi per piangere per fare delle lacrime un oggetto prezioso ma piangere per questo motivo oh Marta sembra che tu non sappia più chi io sono dell'uomo lo sai non ho che la veste il cuore è divino e da divino palpita su alzati vieni in casa e lei lasciatela fare anche mi venisse a deridere lasciatela fare vi dico non è lei è colui che la tiene che la fa strumento di turbamento ma qui vi è uno che è più forte del suo padrone ora la lotta passa da me a lui direttamente voi pregate perdonate pazientate e credete e nulla di più ora di nuovo alcune considerazioni anche Marta era turbata dalla presenza di Maria e c'è un altro elemento che emerge ma questa se mi mette a far la matta questa andrà a insultare Gesù la andrà a deridere lo andrà a trattare con sprezzo e allora Gesù interviene quindi mette le mani avanti dicendo lasciatela fare è molto importante amici notare fatelo fin da adesso il percorso di conversione di Maria di Magara cioè non è che una persona può fare una vita sballata peccaminosa in quel modo e in due minuti in quattro e quattro otto no si deve attivare un percorso duro travagliato un percorso in cui si instaura una lotta soprannaturale tra il cielo e l'inferno in cui l'oggetto del contendere è la povera anima e attenzione che Gesù afferma non è lei ecco lei ecco lui che la tiene che la fa strumento di turbamento attenzione che da Maria di Magda la dicono i Vangeli erano usciti sette demoni qui bisognerà è una bella questione andare a vedere se questa era proprio se quei sette demoni che sono usciti dipendono dal fatto che era indemoniata come dire in senso stretto cioè c'aveva una possessione diabolica coinvolgente sette demoni oppure se quei sette demoni erano come dire i caporioni a capo di ciascun vizio capitale perché tutti ce li aveva la Maria di Magdala ed erano come dire i suoi acuzzini nel senso che la tenevano schiava perché attenzione anche se uno non è indemoniato come si legge nella scrittura che commette il peccato schiavo del peccato e consegna la propria anima in mano a Satana Santo Ammaso d'Aguino spiega benissimo perché il peccato si chiama mortale perché il peccato mortale ti consegna ipso facto alla morte eterna perché perché ti fa perdere ipso facto la grazia e persa la grazia Satana ti mette le grinfie addosso è il motivo per cui si va all'inferno chi è che va all'inferno dice il catechismo di San Pio decimo chi muore non in grazia di Dio senza essersi pentito dei suoi peccati e quindi che cosa succede l'anima che non sta in grazia appartiene al diavolo è sua se vuoi andare a leggere i libri degli esorcisti o chi di voi ha avuto modo di assistere a qualcuna a qualcuna delle smargiassate di quei di quei soggetti abominevoli e schifosi che sono i demoni per loro il mondo è diviso in è mio e non è mio è mio e non è mio è mio e non è mio ma mio non significa che sono tutti indemoniati no perché mio il diavolo lo dice principalmente del peccatore non dell'indemoniato è qui sulla valla lasciatela fare perché non è lei c'è un manovratore certo attenzione non è che uno diventa un automa o che perde la responsabilità degli atti o che non ha più la libera volontà questo non è così si tratta di una schiavitù come dire lo schiavo come dire in un certo senso ha perso la libertà sono belle considerazioni di San Massimiliano Maria Colpi che dice non basta essere schiavi di Maria perché perché lo schiavo mica l'ha persa del tutto la libertà nel senso che se scappa ci può provare se fa la rivolta degli schiavi come Spartaco potrebbe anche andare bene potrebbe svincolarsi dal padrone potrebbe fuggire se è cattivo potrebbe ucciderlo dal padrone quindi non è che si perde la libera volontà certamente però però si è sotto la cappa si è sotto l'influenza dicevo che San Tommaso d'Aguino dice che una volta per questo che è una folli perché ci stanno le pene eterne attenzione una volta che tu entri sotto le grinfie di Satana c'è una differenza fondamentale questo è sempre un ciclo catechetico se tu entri in grazia di Satana tu da lui non te ne vai con le gambe tue sapete no? la conversione è impossibile una volta che una persona sta nelle mani di Satana cioè tu da lì non esci non è molto differente dall'inferno qual è la differenza? che mentre all'inferno c'è una condizione cristallizzata definitiva anche perché c'è stata la morte quindi come ti coglie la morte così rimani qui la situazione non è definitiva perché noi abbiamo la possibilità teorica di convertirci ma perché questo accade ci vuole una grazia perché la Madonna chiede sempre di pregare per la conversione dei peccatori perché se non c'è un'operazione ben precisa della grazia che tocca l'anima la fa volgere verso Dio e gli dà la possibilità di dire sì al suo richiamo quella rimane schiava di Satana non uscirà mentre quando io sto in grazia di Dio il Signore qual è la differenza tra Dio e Satana che Dio ha dei figli e i figli li lascia liberi io in qualunque momento se mi impazzisco chi me lo viede cioè un peccato mortale è facilissimo farlo se uno lo vuole fare e Dio non è che ti mette in catene e non te lo fa fare no invece il diavolo ti mette proprio che è in catene e i beni non te li fa fare fino a quando stai con lui quindi Dio ha dei figli Satana ha gli schiavi e gli schiavi fanno quello che dice il loro padrone ma siccome Gesù voleva fare la grazia a Maria Di Magda la dice adesso scendo in campo io io sono più forte di quello che la che la padroneggia voi stare tranquilli lasciatela fare fidatevi di me e lasciate fare a me entrano nella casetta che è una piccola casa quadrata circondata da un portico che la allarga dentro lui sono quattro stanze divise da un corridoio in forma di croce una scala esterna come sempre conduce all'alto del portichetto che si muta perciò in terrazzo ed accesso ad una vastissima stanza allarga quanto la casa un tempo c'era adibita alle propiste ora tutta sgombra e pulita ma assolutamente vuota Simone che a fianco del vecchio servo che sento chiamare Giuseppe fa gli onori di casa e dice qui si potrebbe parlare alla gente oppure prendere i pasti come vuoi Gesù dice ora penseremo intanto va a dire agli altri che dopo il pasto la gente venga pure non deluderò i buoni di qui dove dico di andare? qui tiepido è il giorno riparato dai venti è il luogo il fruttetto spoglio non avrà danno se in esso viene gente qui dal terrazzo io parlerò va pure restano soli Lazzaro con Gesù Marta nel bisogno di dover provvedere a tante persone è tornata alla buona albergatrice e coi servi gli stessi apostoli lavora a basso per preparare le mense per il riposo adesso c'hanno inciso parlando dell'astrio del sinedrio Gesù dice a Lazzaro che scrive il farisee hanno trovato di che accusarlo poiché egli ha parlato a romani e a peccatrici tu vedi perciò che tua sorella dice Gesù non sarà il primo fango che avvicino e sul quale mi chino e non sarà l'ultimo sul fango io voglio seminare i fiori e farli sorgere i fiori del bene tuttavia Lazzaro gli raccomanda di usare prudenza la visione riprende mentre Gesù torna a salire sul terrazzo per parlare alla gente di Betania e dei vostri vicini a corsa a sentire poi adesso prepariamoci ad una predica di Gesù pace a voi quando anche io tacessi i venti di Dio porterebbero a voi le parole del mio amore dell'altrui livore so che siete agitati perché non vi è ignoto il perché io sono fra voi ma non fatele altro che un'agitazione di gioia e con me benedite il Signore che usa il male per dare una gioia ai suoi figli riconducendo sotto il pungolo del mare il suo agnello fra gli agnelli per metterlo in salvo dai lumi vedete come buono il Signore nel luogo dove ero sono arrivati come acqua di un mare un fiume ed un rivo un fiume di amorosa dolcezza un rivo di bruciante amarezza amarezza il primo era l'amore di voi di Lazzaro da Lazzaro e Marta all'ultimo del paese il rivo era l'ingiusto astio di chi non potendo venire dal bene che lo invita accusa il bene di essere un diritto e il fiume diceva torna torna fra noi le nostre onde ti circondino ti isolino ti difendano ti diamo tutto quanto ti nega il mondo il rivo malvagio invece fischiava minacce voleva uccidere col suo tossico ma che è un rivo rispetto ad un fiume e che rispetto ad un mare nulla e nulla è divenuto il tossico del rio perché il fiume del vostro amore lo ha soverchiato e nel mare del mio amore non sia immessa che la dolcezza del vostro amore anzi bene affatto mi ha riportato a voi benediciamone l'altissimo qui Gesù chiaramente fa riferimento ai fatti dell'acqua speciosa e quindi alla necessità di andare via e quindi di passare per Betania dove avrebbero potuto appunto ascoltarlo quei buoni che a suo tempo andavano ad ascoltarlo in quella sede la voce di Gesù si spande potente per l'aria calma e silenziosa Gesù tutto bello nel sole gestisce e sorride calmo dall'alto della terrazza in basso la gente lo ascolta beata una fiorita di volti levati che sorridono all'armonia della sua voce Lazzaro è vicino a Gesù e vi è Simone e Giovanni gli altri sono sparsi tra la folla sale anche Marta e si siede per terra ai piedi di Gesù guardando verso la sua casa che appare oltre il frutteto e Gesù riprende a parlare il mondo è dei cattivi il paradiso è dei buoni questa è la verità e la promessa e su questa si appoggi la nostra sicura forza il mondo passa il paradiso non passa se essendo buono uno se lo conquista egli in eterno lo gode e allora perché turbarsi di ciò che fanno i cattivi ricordate i lamenti di Giobbe sono gli eterni lamenti di chi è buono e oppresso perché la carne geme ma gemere non dovrebbe e più è conculcata più si dovrebbero alzare le ali dell'anima nel giubilo del Signore credete voi che siano felici quelli che felici paiono perché col modo lecito e più con l'illecito hanno pingui granai e colmitini e traboccano d'olio i loro otri no sentono il sapore del sangue e delle lacrime altrui in ogni loro cibo e il giaciglio pare loro irto di pruni tanto su esso sentono urlanti rimorsi depredano i poveri e spogliano gli orfani derubano il prossimo per fare ammasso opprimono chi è da meno di loro impotenza e imperversità non importa lasciateli fare il loro regno è di questo mondo e alla loro morte che resta nulla se non si vuole chiamare tesoro il cumulo di polpe che seco portano e col quale a Dio si presenta lasciateli fare sono i figli delle tenebre i ribelli alla luce e non possono seguire luminosi sentieri di essa quando Dio fa brillare la stella del mattino essi la chiamano ombra di morte e come tale la credono contaminata e preferiscono camminare al bagliore sudicio del loro oro e del loro odio che fiammeggia soltanto perché le cose d'inferno brillano del fosforo degli eterni laghi di perdizione pit stop allora com'è sta predica di Gesù vediamo adesso sarebbe da fare non si può perché poi non resta nella catechesi ma sarebbe da intavolare una discussione com'è sta predica di Gesù io mentre la leggevo pensavo per esempio alla teologia della liberazione cioè a quella congedie di teologi meglio forse sarebbe dire teologastri che si erano messi in testa e non è ancora del tutto sopito negli anni settanta e ottanta che la chiesa doveva fare la rivoluzione doveva ribellarsi contro le ingiustizie sociali e che Gesù era il pioniere era il capo di questa rivolta sto semplificando perché questa è materia divulgativa cosa dice qui Gesù che nel mondo regnano i cattivi regnano quelli che sfruttano i servi che mangiano sul sangue e sul sudore di chi ha lavorato per loro sottopagato o addirittura maltrattato che cosa dobbiamo fare dobbiamo ribellarci no no lasciali fare lasciali fare tu cammina per la tua strada perché a quelli spettacoli a quelli toccherà l'inferno e a te toccherà il paradiso ancora di più se sopporti con pazienza e con amore i malvagi quindi la valedicazione di Gesù era questa vedete come c'è sempre lo sfondo escatologico no perché il paradiso e l'inferno esistono e i malvagi vanno all'inferno e i buoni vanno in paradiso ordinariamente allora mia sorella Gesù oh Lazzaro scorge Maria che scivola dietro una siepe del frutteto di Lazzaro per giungere il più vicino possibile va curva ma la sua testa bionda brilla come oro contro il bosso scuro Marta fa per alzarsi ma Gesù le preme una mano sulla testa bellissima sta scena e deve rimanere dov'è Gesù eleva ancora di più la sua voce che dire di questi infelici parlo ovviamente dei peccatori Dio ha dato loro tempo di fare penitenza ed essi ne abusano per peccare ma non li perde di vista Dio anche se pare che lo faccia e il momento viene in cui o perché come fulmine che penetra anche nel masso l'amore di Dio squarcia il loro cuore o perché la somma dei delitti porta l'onda del loro fango fin nelle loro fauci e nelle loro ranari ed essi sentono o finalmente sentono lo schifo di quel sapore di quel fetore che è ripugnanza agli altri che fa colmo il loro cuore viene il momento che ne hanno nausea e sorge un movimento di desiderio al bene ecco che Gesù spiega come funziona la grazia della conversione due modalità di agire come da parte della grazia per muovere l'anima e lasciare il peccato da un lato la riscoperta dell'amore di Dio dall'altro la presa di coscienza della nefandezza del peccato la nausea del peccato che ho fatto l'anima allora grida e chi mi darà di ritornare come nei tempi di prima tenete presente che adesso è arrivata la morte di Magdala quando era in amicizia a Dio quando la soluce sprendeva nel mio cuore e al suo raggio camminavo quando davanti alla mia giustizia taceva ammirato il mondo e chi mi vedeva mi diceva beato il mondo beveva il mio sorriso le mie parole erano accolte come parole di angelo e balzava di orgoglio il cuore nel petto dei miei familiari ed ora che sono derisione ai giovani orrore agli anziani io faccio il soggetto delle loro canzoni e lo sputo del loro disprezzo mi riga il volto sì così parla in certe ore l'anima dei peccatori dei veri Giove perché non vi è miseria più grande di questa di uno che ha perduto in eterno l'amicizia di Dio e di il suo regno e devono fare pietà solo pietà questo amici bisogna mettere solo bene in testa cioè i peccatori anche i più schifosi anche quelli che ne fanno veramente di ogni che fanno le peggiori ne fandezio che ci fanno tanto soffrire nel nostro cuore ci deve essere pietà perché sono veramente le persone da commiserare più di tutti gli altri perché hanno perso Dio la sua amicizia e se vanno avanti così la perderanno in eterno proseguo la lettura sono povere anime che hanno per ozio o per sventatezza perduto l'eterno sposo di notte nel mio letto cercai l'amore dell'anima mia e non lo trovai qui Gesù cita un versetto del cantico dei cantici infatti nella tenebra non si può distinguere lo sposo e l'anima pungolata dall'amore irriflessiva perché fasciata dalla notte spirituale cerca e vuole trovare un refrigerale al suo tormento crede trovarlo con qualunque amore no uno solo è l'amore dell'anima è Dio vanno queste anime che l'amore di Dio pungola cercando amore basterebbe volessero in loro la luce e amore avrebbero la loro consorte vanno come malate cercando a tentoni amore e trovano tutti gli amori tutte le sozze cose che l'uomo ha così battezzate ma non trovano l'amore perché l'amore è Dio e non è l'oro il senso il potere qui Gesù dice una cosa molto vera da un punto di vista di introspezione non c'è diciamo che lo dico io però mi limito semplicemente ad evidenziarla da un punto di vista di introspezione di conoscenza anche delle dinamiche psicologiche che il Signore evidentemente manifesta le anime peccatrici specialmente chi pecca come Mary Di Magdala sotto un certo punto di vista specialmente le donne perché fanno così cercano amore cercano di sentirsi amate perché le donne vanitose insomma Mary Di Magdala era numero uno insomma stanno stanno le ore allo specchio nel bagno ad acconciarsi a rotolarsi per essere guardate perché se qualcuno mi guarda vuol dire che sono bella e se sono bella quello si avvicinerà e mi farà sentire amata ci cascano tutti ci cascano ci cascano tutti poi se quello che mi si avvicina che mi vede bella è uno che ha un sacco di soldi meglio è uno potente meglio ecco Gesù che riprende povere povere anime se meno oziose fossero sorti al primo invito dello sposo eterno a Dio che dice seguimi a Dio che dice aprimi ma non sarebbero giunte ad aprire l'uscio con l'impeto del loro amore testato quando lo sposo deluso già è lontano scomparso e non avrebbero profanato quell'impeto santo di un bisogno di amore in una fanghiglia che fa schifo all'animale immondo tanto è inutile e cosparsa di triti triboli che non erano fiori ma solo acculei che straziano e non corono e non avrebbero conosciuto gli scherni delle guardie di ronda sempre il cantico dei cantici sullo sfondo di tutto il mondo che come Dio ma per opposti motivi non perde di vista il peccatore e lo posteggia per deriderlo e per criticarlo povere anime picchiate spogliate ferite da tutto il mondo solo Dio non si unisce a questa lapidazione di uno scherno impietoso ma fa cadere le sue lacrime per medicare le ferite e rivestire di diamantina vesti la sua creatura sempre la sua creatura solo Dio e i figli di Dio col padre benediciamo il Signore Egli ha voluto che per i peccatori io qui avessi a tornare per dirvi perdonate sempre perdonate fate di ogni male un bene fate di ogni offeso una grazia non vi dico fate solo vi dico ripetete il mio gesto io amo e benedico i miei nemici perché per essi ho potuto tornare a voi amici miei la pace su tutti voi la gente si agita agitavedi e ramagli verso Gesù e poi si allontana piano piano qui Gesù sta citando il cantico la sposa si destra non trova non trova lo sposo e comincia ad andare in giro ma trova le guardie che fanno la ronda e te la addobbano di mazzate e la riempiono di schermo quindi qui c'è tutta quanta la situazione esistenziale del peccatore e tutti quanti gli ostacoli che trova anche quando comincia a sentire i moti di avvicinamento a Dio perché questo è un altro particolare cioè la conversione è cosa un processo travagliato perché non è che il Signore dimanda preghiamo della grazia e il diavolo sta a guardare e dice va bene adesso lo accompagno in confessionale e così poi gli dico addio dopo il viaggio in confessionale ma non funziona così prima di mollare la preda il diavolo fa il diavolo a quattro a quattro e poi Gesù chiude ancora dicendo appunto benediciamo il Signore che attraverso un male ci ha fatto rincontrare e guardate perdonate 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 amici mettiamoci bene in testa una cosa il perdono per noi figli di Dio è una cosa fondamentale l'ho detto lo ripeto spero che molti lo sentano se io ho una situazione di non perdono quindi non ho perdonato qualcuno oppure se c'è qualcuno che non ha perdonato me di qualcosa che ho fatto senza che io abbia chiesto almeno scusa poi se non mi vuole perdonare più e io ho chiesto scusa è un altro discorso chi non sta in queste disposizioni non può accostarsi alla comunione sacramentale perché il motivo per cui il Signore Gesù Cristo che ha detto il tuo posto che vi lascio la pace e vi do la mia pace non guardare i nostri peccati ma la fede della tua chiesa è posto nel rito latino prima della comunione è questo cioè per farti un input guarda che se non stai in pace con tutti come fai ad andare con colui che è morto per tutti ed è la nostra pace dobbiamo pensarci a queste cose figliolini cari allora tutti se ne vanno l'avranno vista quella impudente dice un tizio anzi no dice proprio Lazzaro dice no Lazzaro ella era dietro la siepe ben nascosta non potevano vederla perché qui noi potevamo vederla perché qui in alto gli altri no ma ci aveva promesso di probabilmente stava dicendo di di non venire Lazzaro Gesù ribatte lui non ha finito la frase perché non doveva venire non è una figlia di Abramo e la pure voglio da voi fratelli e da voi discepoli giuramento di non farle capire nulla lasciatela fare vi deriderà lasciatela fare piangerà lasciatela fare vorrà rimanere lasciatela fare vorrà fuggire lasciatela fare è il segreto del redentore e dei redentori credo diventi pure per noi avere pazienza bontà costanza e preghiera nulla di più ogni gesto è di troppo presso certe malattie addio amici io resto a pregare voi andate ognuno al suo compito e Dio vi accompagna chiudiamo con questo brano però ecco faccio un'altra qualche piccola considerazione il segreto del redentore e dei redentori qua bisogna mettersi il solito cartellino per qualche giorno sopra il letto allora le vogliamo rivedere pazienza bontà costanza e preghiera la conversione di un'anima non è operazione istantanea quindi bisogna pregare con costanza con perseveranza e avendo pazienza diciamo questo non cambia mai al momento no poi riproveremo può darsi che saremo più fortunati ecco però con tutti e al di là di queste cose che Gesù dice evitare chiacchiere o cose di questo genere perché il sacerdote in questo caso Gesù attende è sicuramente in privato anche lui ci mette un bel carico di preghiera per queste intenzioni e presto o tardi come vedremo nel corso dell'opera questo funziona perché il peccatore si converte bene amici io direi di fermarci qui diamo un bel saluto e l'appuntamento come sempre alla prossima settimana Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga grazie a tutti grazie a tutti